Ed eccoci qua di nuovo in diretta a Crystal Radio Good Morning Milano e abbiamo una graditissima ospite in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Deborah Villa, buongiorno! Ciao ragazzi, buongiorno a voi! Grazie mille di essere collegata con noi, grazie di aver accettato il nostro invito. Deborah Villa, perché ti colleghiamo, oltre a essere grandi fan di un'attrice così brava come te, Deborah, siamo anche qui a raccontare invece che venerdì andrai in scena a Milano con uno spettacolo dal titolo abbastanza originale, perché è Tilt, esaurimento globale, cioè c'è il letto nella mente a tutti quanti. Allora ragazzi, ma il comune è mezzo gaudio, cioè io ho scoperto di essere esaurita ma ho anche scoperto di non essere l'unica, quindi venite che condividiamo. Eh ma appunto, questa analisi di gruppo che ci farai, come funziona? Allora funziona così, che allora proprio tecnicamente inizio subito con una bella improvvisazione col pubblico per capire a che livello siamo esauriti e che cosa ci esaurisce, lì già ognuno dice la sua, insomma di tutto quello che gli può capitare nella vita. Dopodiché facciamo un bel viaggio nel mio cervello, quindi durerà pochissimo perché non è che ci sia tanto da vedere. Allacciamo le cinture di sicurezza in quel caso comunque. Esatto, esatto, no, e cerchiamo di risalire dall'origine del primo esaurito della storia dell'umanità ad oggi perché ci esauriamo, perché abbiamo costruito una società, diciamo così... Basata sull'esaurimento. Distorta, sì, sì, perché è proprio distorta, cioè ma anche la storia non è vero quello che ci insegnano a scuola, cioè anche alla geografia, no? Cioè intanto voglio dire, guarda, la prima roba che ti dico è chiamiamo Terra un pianeta che è fatto per il 90% d'acqua. Questo perché è la nostra soggettiva visione, nonché utilizzo, cioè ce la viviamo in maniera egotica. Potevamo comunque chiamarlo acqua ed essere animali terrestri. Invece no, riduciamo tutto a nostra misura. Il problema è che siamo piccoli rispetto all'universo, quindi comprimiamo e rimpiccioliamo tutto. E perciò, dopodiché, dobbiamo far rientrare tutte le cose che non riusciamo a capire in questo scatolino minuscolo che è il nostro ego. E perciò capisci che non se ne esce. L'operazione lì non è facile, non è facile sicuramente. Come nasce, e insieme a chi ha scritto questo spettacolo, come nasce appunto l'idea di andare ad analizzare gli esaurimenti globali di tutti noi? Allora, l'esaurimento nasce perché, vabbè, diciamo che sono sempre stata abbastanza borderline, ma mi sono resa conto che siamo tutti così. Dopo la pandemia, dopo il secondo lockdown, sono andata un po' giù di testa e ho dovuto ricapire un po' che cosa significa per me salire sul palco e far ridere la gente. Ho scoperto che la risata ha anche proprietà curative e taumaturgiche, questo è scientificamente comprovato a livello medico. E già mi sono rincuorata perché mi sentivo una cretina andare a fare ridere la gente con quello che era appena successo. Dopodiché però ho scoperto, insomma, una crisi un po' più profonda. Ho detto, beh, ma qui non stiamo bene, ragazzi, non stiamo benissimo, quindi la risata ci cura, però facciamo una risata un po' più, diciamo, riflessiva, ecco, no? Come è che si dice, Debo, come si dice far ridere ma anche pensare, giusto, quella cosa lì, no? Eh sì, no, certo, certo, assolutamente. E allora poi, insomma, Carlo Gabardini è venuto a vedere un mio spettacolo in cui ho fatto la regia e ha detto, ah, che bello, che bello, ci siamo ritrovati, insomma, mi ha detto, mi piacerebbe scrivere per te. Allora, insomma, ci siamo messi lì e a quattro mani abbiamo scritto questo spettacolo, insomma, e devo dire che il risultato è buono. Con Carlo Gabardini è la prima volta che appunto ho fatto uno spettacolo insieme come, diciamo, autori, ma in realtà avete già avuto dei trascorsi da attori, no? Ricordiamo. Esatto, bravissimo, abbiamo fatto una tournée con Paolo Rossi e poi Camera Caffè, insomma, lui è Olmo, per chi non se lo ricorda, perché io sono la Patti e lui è Olmo. Allora, per l'altra domanda la devo fare, ma come si fa a uscire da quel personaggio lì? Cioè, quanti ancora quando ti vedono? Ma chi è uscito? Ma chi ti dice che sono uscita? Ma chi ti dice che ci sono mai entrata? Io sono così, capito? Sono abbastanza Patti. Ah, cioè, l'hanno chiamata Patti per non chiamarla Deborah, solo per quello. Esatto, sì, è giusto proprio per far finta di essere qualcosa di diverso. Ok, ma allora, ricordiamo bene dove e quando possiamo venire a vedere appunto questo tilt esaurimento godale, a viverlo, anzi, mi dà quanto capito, perché non lo possiamo solo vederlo. Sì, sì, esatto, 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 è molto partecipato. Allora, 23, 24 e 25 febbraio sono a Lirico, poi l'8 marzo sarò a Legnano, ma comunque se volete, adesso ragazzi posso dire questa cosa, me la sto tirando un sacco, ho il link in bio, ho il link in bio. Io ci ho messo anni a capire che caglio fosse questo link in bio. Quindi se uno vuole vedere le date, va lì, cancello mano a mano quelle che faccio, però tutte quelle nuove sono ancora là. Ok, attenzione che il link in bio non è biodegradabile e non è vegetale, non è così, no, non è quella roba lì, ecco, ricordiamo per chi ci ascolta bene, ok. Però insomma, è importante appunto, fatevi un giro allora a questo punto sul link di Deborah Villa e cercate il link in bio per sapere tutte le date del suo spettacolo. Deborah, noi te aspettiamo qua in studio, lo sai, prima dell'8 marzo vogliamo vederti qui in studio. Va bene, promesso, promesso, arrivo. Grazie mille allora Deborah. Grazie a voi. Come si dice, mucio e merda? Come è che si dice in questi casi? Sì, sì, va bene, va bene. Ok, perfetto, dai. Grazie mille Deborah Villa, noi ricordiamo Tilt. Ciao. Tilt, esaurimento globale dal 23 al 25 febbraio al lirico Giorgio Gaber di Milano. Grazie mille. Ciao.